il faggiano di torino guardate che mezzo che mezzo seconda volta in bike park seconda o terza oggi salti allora iniziamo con le azzurrine qui a caldirola vediamo vai 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 è simile gli arriva in parte attenzione davanti fabrizio menza spingi con l'esterno spingi con l'esterno la prima al padre fabrizio mensa da torino occhio che è ancora un po di fangata allargalo, allargalo vai vai vai, va bene qua inizia un po di ripidino e stretto niente di che vabbè allargala bene spiace bene col destro in modo da tenere la bici contro la montagna è come una curva è troppo sto anche a queste curve cerca di allargarle sempre nel limite delle radici allargalo il più possibile non mi si è agganciato il piede non solo le condizioni ideali salta e salta padri solo qua e solo qua hai rai molla tutto fallo quello che è facile faccia non vedo faccia non vedo faccia non vedo no ma infatti te sei raro esempio grande Mauri mi sa che è di là oh non schiaccia bene col piede andi Sì 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 Ma ti salto giù i denti canto Sì 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 Guarda qua com'è allargare per chiudere meglio Si poteva allargare tanto Sì Porca puttana Ci sei? Io l'ho staccato Spingi di più col ginocchio sul telaio Sì Sì Sembra tutto uguali ma non siamo passati Eravamo appena qui sopra Sì 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 Schiacciala bene con l'esterno! Stringi, stringi, stringi Schiede esterno, schiaccia, schiaccia Anche asciutta Questa è la curva qua 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 Tristra! E' il maurissanto tutto E' la fiducia bella faggiano ma a parte che vai a fuoco e poi vedi la parte di dopo tu la salti tutta a me cosa stai libero salti e freni dopo sai che lì tanto è ripido non freni nel ripido perché non ti fermi cioè freni quando ti appoggi in curva capito? grande faggiano comunque prima esperienza a Caldirola col frontino power la terra l'hai assaggiata anche oggi era buona di merda grande però guarda lì sopra dei siti primo giro col bresciano che va a fuoco quest'anno va a fuoco ragazzi va veramente forte l'anno prossimo prendete le fule e mi date la paga 20 e poco non pensavo che andasse così questo ragazzo bravo bravo che complimentone prossimo anno comunque tutti con la fuga dai chiudiamo